Bravissimo Grande Beppe Non l'ho vista perché oggi si è spissato Bravo Maurizio Dai Davide Bravo Arrivano freschi Va bene allora smontiamo Bravo Tre va bene Vai Stefano Saltano È quella quella Super Sabi Brava Sabi Bravissima Marco Frigo Ma si ma te ne dà C'è che li lo mette ma ora non siamo apportati Certo Vabbè che si chiedi insomma se Però ne ha chilometri Io avrei avrei apparecchiato Ogni settimana mi dici che li ho persi Sì però stamattina non l'ha portato tanto No no dentro non c'è No no dentro non c'è Io ho anche un roto Ecco allora porta Che gli metto gli anelli No è roto Ah ecco anche il roto Che roto Quando finisce quello posso dire Sì poi lo recuperiamo Bravo Bravo Biglietto 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 Cosa ti sei fatto sulla faccia Biglietto 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 Ma è che si vogliono fare Che aspettare Il figlio è scegato due ore a loro No 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 Cazzo va tutti gli anni C***o 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 Quest'anno almeno non c'è niente Quest'anno almeno non c'è niente C***o C***o Sì dai dai B***o Sì C***o 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 Beh E' più da due così Non c***o A B***o B***o Biglietto ... brava terza e quarta e si spende 300 euro e quando non hai il ritmo sto a te e arrivare e quando hai il ritmo e quando hai la spazza lei e quando hai la spazza lei e quando hai il ritmo sto a te e arrivare ma chi è il tempo è buono stesso sulla gara a terra e normalmente arriva a viter non è che che è sta parlando che vi piassa i cavetti ma buone quattro minuti come me e a me lo diede io camminato mi sto prendo quasi il nando no c'è per la cazieria sull'ombrella no lui è a posto sei te con l'ombrella lui testa e il giro giusto Sì, 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 sì. Sì, si cominciano a sciogliare un po' troppo. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.